Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare noi comprenderemo cosa vuol dire veramente stassene per ore nel silenzio stretti da morire e ci accorgeremo allora che il passato il passato è stato quel che è stato ma il domani cosa mai sarà leggi una sera come ogni sera che siamo a cena non c'è 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 veramente stasse nel terrore, nel silenzio, stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato, il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Leggi una sera come ogni sera, che siamo a cena, noi due soltanto, alziamo gli occhi e all'improvviso, sui ostri vizi, noccia riuniente. Noccia riunite. Noccia riunite. Noccia riunite. Noccia riunite.